Buonasera, siamo da Mediatellonia, ora intervisteremo la dottoressa Loizio. Di cosa si occupa il DAMA? Il DAMA è un insieme di medici messi a disposizione dei pazienti con disabilità. E attraverso l'utilizzo di un call center in cui lavorano anche due ragazze, l'associazione Persona Down, si dà una risposta alle famiglie e si prenotano degli appuntamenti specialistici. Come nasce questo progetto? Questo progetto nasce dalla necessità di creare una strada più accessibile per le famiglie dei pazienti che hanno disabilità. Come sarà il tuo ruolo? Io nel DAMA sono stato il coordinatore sanitario e speriamo che con l'istituzione del nuovo DAMA di creare anche all'interno una grande collaborazione con il professor Albertini che sarà il coordinatore del DAMA 2. Grazie mille, buonasera da Mediatellonia.